Oggi faremo un salto nel passato, torneremo alla season 6 solo per questo video. È successo infatti, verso il finale della season 6, che l'iceberg si è lentamente avvicinato all'isola di Fortnite e per vederlo da vicino prima del suo effettivo arrivo abbiamo sfruttato il bug del ghiaccio che ci ha permesso di andare fisicamente di fianco all'iceberg e di scoprire i segreti prima ancora della season 7. Ma io ho voluto vedere oltre e grazie a questo bug mi sono chiesto cosa ci fosse oltre i limiti del mondo di Fortnite. Velo se ti hai mai chiesto? C'è uno sfondo con delle colline, delle texture piattissime e dopo oltre quello sfondo che cosa ci sarà? Bene ragazzi, ve ne avevo già parlato, io ho provato a spingermi oltre qualsiasi altro giocatore di Fortnite, oltre i confini del mondo del gioco stesso e ciò che ho scoperto è stato davvero incredibile. Quindi vi invito a lasciare un mega like e di guardare con attenzione tutto quanto il video, tutte le fasi, tutto ciò che succede perché è stato davvero sorprendente, un qualcosa che non pensavo di trovarmi davanti. Se vi fa piacere vedermi fare video su Fortnite e se vi fa piacere vedere contenuti di questo tipo mi potete supportare anche con il mio codice creatore Ernesto Fiammata messo nello shop. Vi ho fatto aspettare tanto perché c'erano un sacco di argomenti di cui parlare con l'arrivo della season 7, mi è arrivato il momento, allacciatevi le cinture perché questo sarà un viaggio pericoloso e dal quale non torneremo mai più indietro. Mi stavo chiedendo che cosa c'è oltre il limite del mondo di Fortnite. In uno dei miei ultimi video vi ho mostrato questo bug che ci permette di camminare in eterno sull'acqua nella replay mod e l'avevo utilizzato per raggiungere l'iceberg della season 7 nel mentre ho lasciato andare il personaggio e mi sono chiesto Dove si potrebbe arrivare? Che cosa potremmo scoprire? Siamo noi i Cristoforo Colombo di Fortnite? Scopriremo dei nuovi continenti? Anche se Cristoforo non l'ha realmente scoperto, ma vabbè tralasciamo? L'isola di Fortnite giace laggiù da qualche parte. La masso viola che vedete è il cerchio di tempesta che racchiude al suo interno l'isola mentre le nuvole che vedete sono le nuvole che contengono l'iceberg che quella montagna gigantesca là dietro è la montagna che fa di sfondo al mondo di Fortnite. Continuando a correre, siamo nel mare aperto. Ragazzi, non c'è nulla e stiamo passando attraverso le isole, le texture, oserei dire, che vediamo di sfondo tant'è che vedete le texture non sono neanche complete. Cioè, da questa parte possiamo vedere attraverso le texture e notare che queste colline sono fake. Ma una volta arrivati oltre anche queste texture spiattellate in un lontanissimo sfondo che cosa c'è nel mondo di Fortnite? Cosa c'è alla fine di tutto? Ragazzi, cosa sta accadendo all'acqua? Ci sono tipo dei quadratoni di acqua scura, acqua chiara che si intervallano. Ora siamo tornati nell'acqua chiara. È davvero strano. Oh mio Dio, ho capito ragazzi. Stiamo oltrepassando una montagna. Abbiamo appena perforato una delle montagne di sfondo. Guardate, quella è la texture di una città sullo sfondo. Ma che cos'è? Oh mio Dio, ragazzi, abbiamo buccato un continente esterno di Fortnite. Fin dove potremmo andare? Ragazzi, in questo mondo noi possiamo davvero raggiungere l'ipotetica a fine del gioco. Esisterà una fine a questo mondo. Quanto durerà l'oceano? Cavoli, cioè sta roba... Wow, è una figata. È una figata pazzesca. Abbiamo appena bucato una montagna di texture che sta oltre l'isola. Addirittura in un punto così lontano che non era visibile normalmente. Noi l'abbiamo superato. Che cavoli. Ragazzi, anche le nuvole si fanno strane. Visto così sembrerebbe che ci stiamo avvicinando tipo... Alla fine davvero. Come se tra non molto ci sia il nulla cosmico. Ragazzi, qui siamo nel regno del nulla più totale. Cioè, siamo proprio nel niente. Il mondo di Fortnite è costituito da pochi elementi. Abbiamo da una parte l'isola di Fortnite. La tempesta che la racchiude con anche l'isola di Sponne. L'iceberg addirittura sembrerebbe fuori dalla tempesta. E poi lo sfondo. Ma ora siamo oltre i continenti di sfondo. Dove potremmo finire? Ragazzi, c'è questa visuale dice tutto. Ho un po' stracciato la telecamera. Ma dice tutto sta visuale. Raga, dove diamine stiamo andando? Qualcuno ci fermi? Aiuto. D'ora in poi io credo che sia solamente acqua. Cioè, è tipo impossibile che ci sia dell'altro. Ragazzi! Oh mio Dio, siamo usciti dal cielo? Oh mio Dio, siamo appena usciti dal cielo? Non c'è più il cielo. Non ci credo. Non ci credo. Raga, siamo usciti dal cielo di Fortnite. Ma allora la terra è piatta. Ma allora la terra è davvero piatta. Ma che cos'è sta roba? Raga, devo scrinnare troppo tutto ciò. Devo scrinnare. Ragazzi, ora che siamo fuori dal cielo di Fortnite, dove arriveremo? Cosa c'è oltre tutto ciò? Oh mio Dio. Anche il mare sembra diventare vuoto. In qualche modo però ha ancora dei colori, ancora le onde. È strano. È davvero molto strano. Oh mio Dio, ragazzi! Oh mio Dio! È successo! È successo! Cos'è? Abbiamo oltrepassato il mare! Abbiamo oltrepassato il mare! Oh mio Dio! Raga, il cielo... È tipo una... Una calotta che va sotto il... Il mare anche. What? Ora stiamo correndo in un ambiente vuoto. Ragazzi! Cos'è? Cosa sta succedendo? È bellissimo tutto ciò! È bagatissimo! No, no, vabbè ragazzi. È mitico. Mitico. Ora... Io non lo so. Cioè, oltre il vuoto cosa ci può essere? Cosa ci può essere? Davvero? Ragazzi, potenzialmente... Vedete? Noi possiamo andare avanti per sempre. Noi possiamo continuare per sempre. Guardate, là si vede ancora un po' la... La tempesta. La vedete la tempesta laggiù? Che ancora ci sono i tuoni e tutto. Cioè... Madonna, ma stai male! Non lo so. C'è un qualcosa di mistico. Vedere questa cosa e vedere lui che corre... Corre verso il nulla. Vabbè, correremo per sempre verso il vuoto. Ora, ragazzi, avendo oltrepassato l'oceano di Fortnite, cosa ci sarà oltre? Cioè, il vuoto. Ora siamo in uno spazio vuoto. Colorato da un gradiente di base che divide l'orizzonte, potremmo dire. Definisce l'orizzonte. Oltre a ciò, ci può essere altro o sarà l'infinito, il vuoto infinito in questo modo? Io lascio andare e vedremo tra un po' se succede qualcosa. Ragazzi, vi dico due cose importantissime prima di proseguire il video. La cosa numero uno è che questa registrazione è durata così tanto per sfondare i vari limiti del mondo che io intanto mi sono messo a fare altro. Quindi davo un'occhiata alla registrazione e se non sentite i suoni di gioco è perché rientravo di corsa appena vedevo che cambiava qualcosa a schermo. Seconda cosa molto importante, se soffrite di attacchi epilettici vi sconsiglio la prossima parte del video perché è avvenuto un bug che continuava a flashare luce, quindi potrebbe essere dannoso per la vostra salute. Ragazzi, oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! È finito! Abbiamo superato un'altra fase! Abbiamo superato un'altra fase! Ragazzi, siamo caduti nel vuoto più totale! Allora, oltre l'isola, oltretutto, abbiamo visto e scoperto che c'era tipo un piano invisibile potremmo dire. Ma quel piano invisibile è finito e il personaggio è caduto nell'oblio. Ora vediamo lampeggiare il sole ed è nero! Tutto nero! Ragazzi! Potrebbe essere questo il limite. Guardate! Avete visto? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Se giriamo la visuale vediamo il personaggio che flasha! È ancora lì! Sta ancora cadendo nel vuoto! Cosa? Cosa succede? Per quanto può cadere? No, ragazzi! Ora andiamo avanti! E voglio vedere quanto può cadere nel vuoto che c'è oltre l'universo! Oh mio Dio, ragazzi! Cosa sta succedendo? E ma è tutto così magico! Cosa ci sarà oltre il vuoto di Fortnite? Il vero significato della vita? Ragazzi, che dire! È stato bello! Ma come tutte le cose belle, prima o poi devono finire! Questo è il limite di Fortnite! Siamo caduti nel vuoto, abbiamo rotto il gioco ed è arrivato il momento di abbandonare questo replay! Al che vi starete chiedendo? Eren, come hai fatto? Vi consiglio di andare a riprendere il video dove sono andato a vedere l'iceberg! Ve lo linko anche nelle schede, ragazzi! Così potete, nel caso, controllare! Quella è la tecnica che ho utilizzato! Considerate che c'è stato un aggiornamento, intanto! Quindi non l'ho più ritestata! Potrebbe essere benissimo che hanno fixato il bug! Come potrebbe essere rimasto! Cioè, nonostante, devo dire che questo bug è stato uno dei più OP della storia di Fortnite! Non ho mai visto una cosa che ti permettesse di andare così lontano! E vedere così tante cose! È stata un'occasione davvero d'oro che ho voluto sfruttare! Speriamo che si trovino in futuro altri bug pacifici come questo che permettono di analizzare il mondo di Fortnite se ce ne sarà bisogno! Detto ciò, io vi saluto! Ci vediamo domani con altri video! Ciao a tutti!